E' stata considerata una delle novità più importanti nel panorama politico elettorale di Itri. L'avvocato Antonio Fargiorgio, peraltro molto importante per quanto riguarda il suo ambito professionale, ha sbaragliato il campo e con uno scarto veramente abissale, oltre mille voti, ha vinto le elezioni amministrative al comune di Itri. Una candidatura che è nata, avvocato Fargiorgio, quasi d'extremis. Sì, diciamo che ho riflettuto a lungo prima di accettare la candidatura perché ho fatto tutta una serie di riflessioni, però quando ho visto che diversi amici, diverse associazioni mi spingevano verso un impegno civico e ad assumere questo impegno in prima persona non ho potuto più tirarmi indietro e quindi non mi potevo esimere perché me lo chiedeva la parte sana della società italiana. E quindi ho cercato di mettere a disposizione la mia competenza, le consapevolezze acquisite in altri ambiti, in altri settori e adesso vediamo come andrà. Siamo una bella squadra, una squadra forte, una squadra coesa, una squadra omogenea. Abbiamo intenzione di fare tante cose buone per Itri. Ecco, Itri prima di tutto è il titolo, è il nome di questo schieramento, è uno schieramento che non guarda da nessuna parte. A quanto pare avete una mission, soprattutto rilanciare l'immagine sotto ogni profilo di questa comunità. Assolutamente sì, noi abbiamo detto che il filo connettore, il filo di questa lista era proprio questo, l'insieme di persone che sta lì perché ha con un unico obiettivo, che è quello di fare il bene della collettività. Itri prima di tutto, di fatto, abbiamo detto, non era solo il nome della lista, ma era in realtà una sorta di moto dell'anima, perché esprimeva ed esprime il sentimento comune a tante persone che hanno deciso di mettere insieme le loro competenze, le loro consapevolezze in maniera sinergica nel superiore interesse della città. Ecco, ha battuto nell'ordine Luca Iudicone e Elena Palazzo. Si aspettava questo risponso? Ma io, vabbè, dico, quando uno accetta di candidarsi, poi chiaramente spera sempre di vincere. Devo dire che con queste proporzioni, con queste dimensioni, non pensavo di affermarmi, perché mancano ancora pochissimi voti, quasi mille voti in più di Luca Iudicone e Cambiamo Itri, oltre mille voti in più della lista Itri nostra, capeggiata di Elena Palazzo. Veramente, devo dire che la cittadinanza ha risposto in maniera entusiastica al nostro appello, a quello che è stato il nostro impegno. Devo dire che, veramente, per me è un successo, al di là di quelle che erano le più rose aspettative. Ecco, una domanda che le fa un cronista in queste circostanze. Archiviata, la sbordia elettorale... Quali sono le prime cose che ha in mente di fare il sindaco Fargiorgio, che ha puntato sulla sua simbolica agenda, che al momento è ancora nel cassetto? Sì, allora, io ho detto che noi nei primi 100 giorni dobbiamo sicuramente recuperare in tema di arredo urbano, dobbiamo intervenire sulla viabilità sia rurale che cittadina, dobbiamo sicuramente recuperare gli spazi che nelle periferie sono un po' abbandonati e renderli più fruibili, più vivibili, sicuramente più a dimensione d'uomo. E poi ci sono alcuni siti importanti sui quali dovremmo intervenire. E come ho detto già a qualche altro suo collega, sicuramente dovremo affrontare il discorso dell'ordine pubblico, della sicurezza qui a Itri e lì avvieremo dei tavoli di concertazione con le forze dell'ordine a ciò preposto e vedremo di garantire ancora di più, di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini di Itri. Ecco, che tipo di opposizione si aspetta da questa opposizione, meglio, da queste opposizioni che sono proie plurale? Ma io ho detto che non sono uno per natura che esclude, io sono uno inclusivo. Io mi aspetto un'opposizione sicuramente dura, ma un'opposizione costruttiva. Ho già detto in campagna elettorale che per me le buone idee, se sono tali, possono essere coltivate, condivise, attuate, a prescindere da chi le esprima. Io auspico un clima di assoluta correttezza e soprattutto un clima che consenta di lavorare sempre negli interessi di Itri, magari anche partendo da posizioni diverse, chi dalla maggioranza e chi dall'opposizione, ma ritengo che su alcuni punti potremmo sicuramente convergere.